Quindi, come si può ottenere questa skin senza shoppare la scheda video da un milione di euro? Molto semplice! Seguite il video fino alla fine per scoprirlo! Fri e fatti a tutti, io sono Octo di Purpivore Terrellana con il mio cappellino da 50 centesimi che è il potere della connessione pura sia con voi! Cari amici che vi siete iscritti e avete attivato la campanella per non perdere le notifiche dei video e delle live, ma tanto si sa che YouTube non le manderà mai perché YouTube è baccato! In questo video parleremo di come ottenere la skin Reflex! La skin che viene data omaggio comprando le schede GTX! Chiaramente in questo video spiegheremo come ottenerla non comprando la scheda GTX! E inoltre come ottenere anche 2000 V-Bucks! Vi invito ad arrivare a 5000 like per questo video, per questa skin, perché veramente le informazioni sono molto scottanti! Ancora una volta vi ricordo che è molto importante iscriversi e attivare la campanella se ancora non lo foste già! Detto ciò, buona visione! Come vedete questa è la skin Riflesso! Io ho la skin Riflesso con l'unità di risposta che è il dorso decorativo, con l'ascia angolare che è la strumento di raccolta, il deltaplano fulcro e io ci ho messo la fantascienza retro come scia perché è verde e ci sta molto bene con questa skin! È una buona skin perché è molto mimetica, se vi mettete nei cespugli la gente fa fatica a vedervi perché siete verdi e in ogni caso siete più mimetici rispetto magari a qualcuno che ha una skin molto più colorata e variegata! Vi ricordo comunque ancora una volta che se voleste shoppare qualsiasi skin vi invito a supportarmi come un creatore e supportare questo canale, inserendo il codice cortissimo OctiPFI, scritto tutto attaccato, minuscolo o maescolo non importa e poi cliccare su accetta! La cosa che dovremmo fare è recarci su siti che vengono case di giochi online, non è una sponsorizzazione questa a vari siti, in realtà ne ho aperti più di uno, ne ho aperto Instant Gaming, G2A, Kinguin, ma ce ne sono veramente veramente tanti! Su questi siti vengono fatti delle offerte di dei pacchetti, come potete vedere possiamo trovare il Deep Pros and Bundle al posto di prenderlo a 30€, lo possiamo prendere a prezzo scontato, io per esempio l'ho preso a 15€ e siccome vi danno anche 1000 V-Bucks, è come se l'avessi preso a 5€ e avessi shoppato altri 1000 V-Bucks, stop prima di proseguire col video! Ti ruvo 30 secondi per la sponsor time, perché immagino che tu sia stufo di giocare con una tastiera scadente che ti fa venire voglia di scaventarla da tutte le parti e immagino che tu abbia deciso di comprarti una nuova tastiera da gaming meccanica super fighissima! Allora la tastiera Blademaster TE della Drevo è ciò che fa il caso tuo, la tastiera più votata nell'intera storia di Kickmaster, con un layout completamente in italiano che uso io stesso per fare vittorie con 15 kill su Fortnite! La particolarità della tastiera è appunto il genisknob situato alla sinistra della stessa, cui puoi assegnare ogni comando che ti venga in testa, da quando l'ho provato non potevo più farne a meno! Addirittura i led sono luminosissimi e bellissimi! Nella fighissima scatola troviamo la tastiera, le istruzioni, un pennello per scopare la tastiera, una pinzetta per rimuovere i K-Cups e una foto di occhi da piccolo col culetto di fuori. No, forse questa non c'era. Nessun obbligo, ma se volete una tastiera come la mia andate in descrizione che trovate il link per la tastiera con un codice sconto del 20% solo per gli iscritti alla pura fibra italiana. Sbrigatevi prima che finiscano! Su siti come questi possiamo trovare l'offerta di riflesso, che appunto è qua. Qua lo vedete a 34,99€, è molto conveniente ragazzi, molto conveniente. Ma perché shoppando questo non ottenete solo questi oggetti qua, ma ottenete anche 2000 V-Bucks. Quindi è come se lo shoppaste al prezzo che lo pagate, quindi tipo 33€, meno 2000 V-Bucks che sono 20€. Quindi è come se pagaste tutto questo set 13€, il che ne vale la pena anche perché è un set molto molto raro. Ci sono addirittura gli set anche più rari come il set E.ON che costa addirittura 60€, ma attenzione dovete avere l'Xbox per sbloccarlo. Così come c'è la set del Bomber Skin, quella ottenibile comprando la PlayStation 4, con addirittura 500 V-Bucks, che però attenzione dovete avere la PlayStation 4 per sbloccarlo. Quindi se avete la PlayStation 4 e non avete però questa set, potete sempre shopparlo. Costa 14€ e vi danno anche 500 V-Bucks che sono 5€, quindi è come se shoppaste questa skin a 9€, il che ci sta alla fine. Ma dovete valutare molti più siti, tipo Instant Gaming, a varie altre offerte. Qua troviamo il pacchetto a 16€ e 74€, quello E.ON a 38€, quello la Bomber a 18€, ma magari su King Penguin appunto troviamo a 32,98€ che ci permette di risparmiare un po'. Possiamo trovare appunto anche questi altri set a prezzi un po' scontati, addirittura anche salva il mondo. Troviamo un sacco di offerte veramente da non perdere in certi periodi. Chiaramente queste offerte sono a codice, quindi una volta che voi l'avete comprata sparisce, quindi dovete affrettarvi in caso, perché veramente sono cose che uno le compra e bam, spariscono. Una volta che le acquistate ricevete via mail un codice, un codice tipo questo, io almeno li ho ricevuti tutti così, voi andate sull'account Epic Games, andate sul sito dell'Epic Games, andate nel vostro account, inserite il codice e lo riscattate. Non so come funzioni per la PlayStation o per l'Xbox, perché non me ne intendo, ma penso che anche lì basta farlo dal sito dell'Epic Games e risolvete tutto. Io ho shoppato sia questo a 15€, sia questo a 33€, che però vi ricordo 33€ con 2000 V-Bucks, che sono in realtà 20€. Quindi è come se voi shoppaste questo qua a 13€, il che ci sta. È una gran offerta, non è gratis, ma è quasi gratis, perché se pensate che una scheda video costa 600€ e passa, cioè comprare la skin esclusiva a soli 33€ è veramente qualcosa di assurdo. Di tanto in tanto compaiono anche le skin Galaxy, assurdo ma vero, compaiono le skin Galaxy per shopparle, purtroppo bisogna sbrigarsi, bisogna trovare l'offerta assurda, perché veramente vanno via subito. E niente, questo è come ho ottenuto questa fighissima skin, praticamente gratis, cioè non dovendo comprare la scheda video super assurda. Io vi lascio a dei piccoli clip, a dei piccoli gameplay con questa skin, per farvi vedere quanto mimetica è e quanto bene ci sta, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao Bombers! Ragazzi, mi sono buttato strai ritardo, perché stavo attivando la registrazione. Una mitraglietta in tutta la casa e un Chuck Jug, l'unica roba che ho trovato, insieme a tante munizioni varie, ma che se muoio non è che mi servono più di tanto. Ora, ora vado a pushare io sti tipi. Raga, è un bel problema questo. Bene. Benissimo, benissimo. Molto bene, molto bene, molto bene, molto bene. Buonissimo, buonissimo Bomber, bravo, bravo. Così si fa, bravo Bomber, bravissimo. E niente raga, salti spring e detto anche Borg Bisla che è nostro ormai. Attenzione, il piano è, io mi butto la granata e prendo le... No! Esatto, questo è il tipo di kill che vogliamo. Questo è proprio il tipo di kill che vogliamo. Vediamo se... Questo qua è uno buono proprio. Buono, 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 buono. Questo qua ha un sacco di roba utile, molto bene. Vedo, vedo attività lì, attività commerciale. Vedo proprio dell'attività commerciale. Ok, qualcuno me l'ha rubato, grandissimo Bombers. Siete proprio dei finocchi. Troppa gente, troppa gente qua. La cosa sta diventando troppo, troppo invadente come cosa. La situazione non è delle migliori, non è diventata delle migliori. Buono. Silenzio così impara. Basterà solo curarsi un... Ok, abbiamo capito che un nemico è da queste parti qua, ma lui non sa che io tanto posso curarmi. Buono. È proprio lì? È scemo un po'. Io non farei mai una roba del genere. Assolutamente. Molto bene, molto bene. Rischiata come non so, eh. Perché era veramente, veramente rischiata come cosa. Però... L'importante è che ci siamo riusciti. No, quello non ci voleva proprio. Chi è quello sfigatino? Non ha niente di meglio da fare che sparare a me. Le cose qui si fanno... Questo non ha ben capito... Non ha ben capito dov'ero. Hai capito sto Tfew che fa? Ok. Ok. Raga, mi sa che sta cerchando di buttare giù la base. Se morissi così sarei... Sì. Mi sa proprio di sì. Mi sa proprio di sì, raga. Capite che sfigatezza. No, 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 no. Stai buono. Ma, ma cosa? Pazienza, pazienza. Vabbè, dai. No, 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 no.